Buongiorno, si è unita la Commissione per il sordeggio dei componenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione d'urgenza, da assegnare alla struttura complessa pronto soccorso e medicina d'urgenza di questa SST. Quindi apriamo con un presente verbale dato odierno, 30 agosto 2022, alle ore 10.15, presso la struttura complessa risorse umane della SST, dove si è riunita la citata Commissione SSI d'articolo 6 del DPR 483, del 10 dicembre 1997. La Commissione di sorteggio, nominata con deliberazione del 1348 del 10 luglio 2020, è presente la seguente composizione. La Commissione prende atto per quanto riguarda gli adempimenti in cui l'articolo 6 del DPR 483 del 10 12 1997, che la notifica presente e sorteggio è avvenuta mediante pubblicazioni sul BURL, collettivo ufficiale di giornalopartia, si revise concorso il numero 23 del 8 giugno 2022. La Commissione prende quindi visione degli elenchi degli iscritti dell'ultimo ruolo nominativo regionale e per quanto quindi interesse di quelli specifici, riportando il personale di ruolo della disciplina e della qualifica prevista. vi mostro l'elenco ai direttori. Si precisa che, inoltre, che tratta l'urgenza di concludere la presente procedura in detti brevi, si procederà al sorteggio di un ulteriore supplente da convocare solo nel caso in cui il titolare e il supplente si hanno impossibilità di prendere parte ai lavori della Commissione esaminatrice. Per il sorteggio la Commissione decide di seguire la procedura in stretta analogia a quanto previsto l'articolo 15 del DPR 20 novembre 1948-1677, riguardante le modalità di estrazione delle lotterie nazionali, utilizzando due sacchetti con freddi ciascuno le palline numerate occorrenti, uno di colore blu e uno di colore verde. Per l'estrazione il numero indicatore rispettivamente delle decine e delle unità. Quindi verifichiamo la presenza dei numeri indicatori delle decine e delle unità, prima delle decine, nel sorteggio di colore blu, 0, 1, 2, ricordiamo l'elenco che è composto da 21 combinativi, quindi le decine possono essere 0, 1, 2, poi i numeri indicatori delle unità. 3, poi i numeri indicatori delle decine, delle unità. 0, 1, 2, 3, poi i numeri indicatori delle decine, delle unità, delle unità, delle unità, 5 6 7 8 e 9 procediamo con l'estrazione numerificatore delle decine per il componente tutolare 1 1 6 6 corrispondente al numero 16 dell'elenco la dottoressa Barbara Federica Omazzi della S.S.T. Rodense ti conviene restare vicino poi il numero indicatore del componente suplente cominciando dalle decine 0 il numero indicatore delle unità 3 corrispondente quindi al numero 3 dell'elenco dottoressa Anna Maria Brambilla S.S.T. fa per delle fratelli Sacco e poi l'ulteriore suplente 0 5 5 corrispondente quindi al numero 5 dell'elenco dottoressa dottoressa Francesca Maria Co ASS.T. di Cremona eseguite le operazioni di sosteggio la commissione dispone del presente verbale a cui il segretario ha rimesso il direttore generale per quanto di competenza verbale nel confermato sottoscritto alle ore 10 e 20 vi ringraziamo e vi auguriamo una buona giornata